Io ho bisogno di te Ciao Salire le scale Chi è? Dove sei? Io sono una studentessa Tu sei una persona molto carina Lui è intelligente e divino Lei è una ragazza molto divertente Lui è intelligente Come siete? Come sta? Vorrei parlare bene l'italiano Io parlerò bene l'italiano Sono felice adesso Parlo benissimo questo idioma Mi manca il mondo che sognavo riconoscere Sono felice adesso Essere e avere sono i verbi più importanti Avere libertà è importante Essere felice è importante Io sono felice Tu sei felice? Io ho la libertà di imparare ogni giorno Tu hai tempo di imparare l'italiano? Lui comunque non ho tempo per fare una piccola pausa e imparare l'italiano L'italiano è la lingua più bella del mondo Io so parlare bene l'italiano Ma per questo sono felice Io sono nato in Brasile Io sono nato in Brasile a Rio Grande Lui è nato negli Stati Uniti ma ne è un euro L'italiano è molto divertente Questo vede che ti aiuterà a capire le grammatiche italiane A Cuba ci sono molte cose diverse e attive In Italia ci sono molti cibi buoni da mangiare Mi piace tantissimo viaggiare Di solito leggo molto e tu Che cosa ti piace fare nel tuo tempo libero? Fare sport Ballare Ascoltare musica Dormire Cantare Volare Nel dipinto di blu Felice di stare lassù Tu sei una persona capace E di imparare tutto Nel dopiero Nel dopiero Di ogni giornata Nel dopiero Nel dopiero Nel dopiero Nel dopiero Nel dopiero Io ho bisogno di te Ciao Salire le scale Chi è? Dove sei? Io sono una studentessa